Signori, io spero sia una candid camera, una fake news, perché José Mourinho qua davanti, il tweet ufficiale della S Roma, José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma a partire da giugno 2021, giugno prossimo, quindi proprio oggi era uscito invece il comunicato ufficiale, la S Roma comunica che Paolo Fonseca lascerà il club al termine della stagione. Quindi da un portoghese a un altro, ma questo è un illustre allenatore che io amo alla follia. Per me José Mourinho veramente non è il top secondo me degli allenatori, però mi piace, mi piace un sacco perché è uno che per me ha fatto dei miracoli, che sa leggere le partite, sicuramente è un allenatore che, ma già non è che lo dico adesso perché è andato alla Roma, ve ne ho parlato tante volte in live, è per me un allenatore un pochino superato. Ok, perché comunque il calcio si evolve, il calcio va avanti, però io ho letto qua, vede che Mourinho dice Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto, ho capito immediatamente quanto sia alta l'ambizione di questa società. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l'incarico. Dai è Roma! Ok, quindi inizio ad essere preoccupato, vi dirò di più. Si parlava di Sarni, no? Queste ultime settimane e io ero molto affranto, molto preoccupato perché Sarni io vorrei vederlo un giorno, adesso Inzaghi dovrebbe rinnovare, forse oggi l'ho tito a Formello, speriamo rinnovi perché è sei mesi che deve rinnovare a sto punto, no? Se si è deciso che rinnovi, che rinnovi e boh, ok. Però Sarni mi piacerebbe, no? Un futuro vederlo sulla panchina della Lazio. Per me Sarni, con la squadra che ha la Roma, con le dovute, i dovuti acquisti, poteva fare molto bene, ok? Poi Sarni, la piazza di Roma, la piazza di Napoli sono simili, quindi per me avrebbe trovato l'ambiente giusto dove potersi esprimere. Torino per Sarni forse era troppo, non rappresentava il suo stile, poi ci sono stati problemi tecnici. Mentre Jose Mourinho sicuramente rappresenta un passo avanti dal punto di vista della personalità, un motivatore sicuramente rispetto a Fonseca, che facendo una chiosa su Fonseca, a me, lo sapete che ve l'ho detto, a me piace come allenatore Paolo Fonseca, è stato per me anche fin troppo criticato, più che altro gli è stata buttata la croce addosso, gli sono state scaricate tutte le colpe della stagione della Roma di quest'anno e dell'anno scorso che tutto sommato non sono state negativissime, perché l'anno scorso è arrivato quinto, che era in linea con i tuoi obiettivi. Quest'anno, ok, in campionato purtroppo male. In Coppa Italia hai fatto anche quella figuraccia, però hai fatto un grande percorso in Europa League, da sottolineare, ok? E' anche brutto che venga, diciamo, tra virgolette esonerato, venga comunicato questo alla vigilia di una semifinale di Europa League, che è vero che è quasi impossibile che tu puoi recuperarla, però, capisci, tu devi onorarle a queste competizioni, quindi dire che il tuo allenatore attuale non sarà più l'allenatore il prossimo anno, prima di una semifinale, di una partita così importante per la storia della Roma, perché poi la Roma non ha mai vinto nulla in Europa, quindi bisogna onorarle, bisogna provarci, perché vi ricordate, anche Roma-Barcellona nessuno avrebbe sperato nella rimonte, invece ce l'avete fatta e fu una partita epica che rimarrà poi nel calcio italiano, quindi mai dire mai nella vita, però la Roma proprio non ci crede in questo allenatore, evidentemente, ok? Però Fonseca quest'anno è sotto gli occhi di tutti, che è mancato dal punto di vista della personalità, anche come motivatore, secondo me pecca un pochettino, perché nelle partite importanti la Roma quest'anno in Serie A non ha vinta una, questo è un grave deficit, ok? Perché se si può criticare qualcosa a Fonseca, si può criticare quello, anche lui in conferenze stampe ha spesso glissato, ha detto, eh, la squadra non è pronta mentalmente, però, caro Fonseca, sei tu l'allenatore, quindi chi è che la prepara mentalmente? Io? No, quindi, se i tuoi giocatori non hanno personalità, in un certo qual modo tu devi migliorare questo fattore, ok? Da settembre ad oggi la Roma nei big match ha sempre fatto brutte figure, quindi le colpe sono anche tue, però la Roma ha espresso anche un buon calcio, purtroppo a Roma, come alla Lazio, come a Napoli, si passa da siamo fenomeni a siamo pippe, perché se io vado a ritroso, a dicembre della scorsa stagione, a dicembre di quest'anno, si parlava di Roma a scudetto, è chiaro, i media, eh, non gli youtuber, i media parlavano di Roma che si poteva inserire, quindi vuol dire che la Roma faceva bene, giocava bene, no? O sbaglio? Certo, in Italia purtroppo si passa, anche solo per vendere due giornali, da scudetto a fallimento, è chiaro, quindi anche per Fonseca non è facile gestire una piazza così, tra l'altro non sei italiano, quindi non conosce anche certe dinamiche, Mourinho conosce l'Italia e va a allenare comunque una rivale storica sia dell'Inter, ma anche soprattutto della Juve, perché nell'ultimo decennio la Roma ha provato a fronteggiare la Juventus, quindi diventa un campionato italiano anche affascinante da quel punto di vista lì, io sono contento di affrontare José Mourinho, rispetto, ma nessuna paura, e però, come detto, dal punto di vista della personalità, Mourinho potrà sicuramente fare il salto di qualità, far fare il salto di qualità alla Roma. Poi, ripeto, per me Mourinho è un allenatore che è un po' superato per mentalità, il calcio va avanti, il calcio non è più quello che la Champions League la vince una squadra che magari pensa più a difendersi, come fu l'Inter nel 2010, che era una grande squadra, ma non era il City, tanto per dirne una, non era il Barcellona, è una squadra che pensava più a difendersi. Il calcio è un po' cambiato, anche in Europa si è capito che chi propone calcio, ok, chi impone il suo calcio, chi è propositivo, riesce a fare di più, a fare meglio, e ne è un emblema, per esempio il City di quest'anno, o lo stesso Bayern Monaco, ok, il Liverpool, ecco. E poi, vabbè, Mourinho viene da stagioni un po', diciamo, controverse, quest'anno molto male, perché al Tottenham è uscito clamorosamente dall'Europa League, in campionato, stava facendo malissimo, ora è entrato Mason, però sicuramente fossi romanista sarai contento, perché questo è un allenatore intelligente, soprattutto che sa capire i momenti, sa capire le partite, e io ricordo che, per esempio, in un Chelsea-PSG, lui andò a perdere, PSG-Celsy, 3-1, con un gol di Avie Pastore, il flaco, bellissimo, e vinse 2-0 a Stamford Bridge, c'era Mourinho in panchina, quella fu una partita iconica per me di Jose Mourinho, perché lì si è capito veramente quando un allenatore sa leggere le partite, i momenti, sa anche entrare nella testa dei giocatori, perché lì il PSG era favorito. Tu, Chelsea, non eri una grande squadra, dovevi recuperare, si è andato a vincere 2-0 con un gol, se non erro, non ho cercato di Skürrel e Dembabà, correggetemi se sbaglio, e quella veramente fu un'impresa incredibile, ma la stessa Champions del 2010, l'Inter non era la favorita, ok? Ha fatto un miracolo, perché lì c'era un Barcellona che era tanta roba, c'era un Bayern Monaco che non era come questo di adesso, era più scarso, ma non era male, c'era il Chelsea di Salomon Calou, quindi ecco, diciamo, vabbè, Mourinho, poi imprese epiche che non vi devo dire io, ok? Basta che c'è cercato José Mourinho, Palmares e già ho detto tutto. Quindi, una squadra come la Roma che non ha mai vinto niente a livello europeo soprattutto, anche italiano non ha vinto tanto, beh, prende un allenatore vincente, quindi da quel punto di vista lì, bene così per voi, ok? Però vediamo, non sto qua a fasciarmi la testa, oh, è arrivato Mourinho alla Roma, io sono contento di affrontare Mourinho alla Roma, sarà un derby bellissimo ragazzi, ok? Quindi, assolutamente laziali, mi state inondando di messaggi, no? non fasciatevi la testa, sono contento che il campionato italiano si alzi di livello, di fascino, ok? Ragazzi, commentate con la vostra opinione, like al video, iscrivetevi al canale, bella!